Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese per parlare di toponomastica, ma ne parliamo in modo particolare perché in effetti è un progetto che vede protagonisti più di un ente, più di un organismo. Oggi in particolare abbiamo le rappresentanti con noi di due degli organismi che partecipano a questo progetto, ovvero i beni culturali della Tavola Valdese. Ciao Sara Rivoira che ci hai raggiunto in studio, sei qua con noi. Ciao Daniela, ciao a tutti e tutte. E la Società di Studi Valdesi rappresentata da Aline Pons che è con noi in collegamento su Zoom. Ciao Aline, buongiorno. Ciao Daniela, ciao a chi ci ascolta. Allora Sara e Aline vi abbiamo invitate per parlarci appunto di questo nuovo percorso che è stato portato avanti in questi mesi e che si concluderà con una presentazione ufficiale lunedì prossimo, il 10 di giugno a Torino, un progetto dal titolo Toponomastica e patrimonio culturale, dalla raccolta alla restituzione. Io non darei nulla per scontato e chiederei, non so se a Sara o a Aline, ma di spiegarci cosa si intende per toponomastica e poi la domanda successiva è come si lega la toponomastica con il patrimonio culturale valdese e metodista. Iniziamo con Aline, con la toponomastica. Prego Aline, lasciamo a te la parola. Ok, beh, molto semplicemente la toponomastica raccoglie i nomi dei luoghi, e detta così è molto semplice, però quello che si cerca di fare negli studi di toponomastica è di raccogliere i nomi dei luoghi nella lingua delle comunità che li abitano, perché appunto noi molti luoghi li conosciamo per come sono stati italianizzati, per come sono presenti sui cartelli o sulle carte geografiche ufficiali, ma se conosciamo i nomi di questi luoghi anche nella varietà locale, occitana, piemontese, insomma a seconda di dove ci troviamo, riusciamo a capire meglio cosa vogliono dire questi nomi e ci introducono, diciamo, alla conoscenza dei luoghi delle nostre vallate. Bene, chiarissima. Grazie Aline. Sara, come si collega la toponomastica con il patrimonio culturale valdese metodista? Allora, noi sappiamo bene che i luoghi e i nomi che li designano sono estremamente importanti per la storia, in particolare per la storia di una comunità come quella valdese, che ha individuato nel suo territorio di insediamento proprio il luogo all'interno del quale si è sviluppata una storia. Quindi i toponimi, insieme a tutta una serie di altri elementi che costituiscono proprio parte di una narrazione, quindi di una storia vissuta da una comunità, costituiscono a tutti gli effetti un elemento del patrimonio culturale. Sicuramente una componente immateriale, però è chiaro che non sono degli elementi slegati dalla storia. Certo. Quindi grazie. Ci avete introdotto l'argomento e speriamo che questa introduzione permetta anche a chi magari non mastica quotidianamente di toponomastica o di patrimonio culturale di capire come si inseriscono e come si integrano, direi, anche i due ambiti. Questo progetto, appunto, toponomastica nelle valli valdesi, da quanto tempo è partito? Chi ha coinvolto? Ho citato Società di Studi Valdesi e Ufficio Beni Culturali, ma forse ci sono anche altri enti che collaborano. Sara? Allora, questo progetto è nato un po' di anni fa, va detto, siamo più o meno nel 2017. La volontà era appunto quella di raccogliere i toponimi delle valli valdesi per inserirli all'interno della banca dati e del portale dedicato al patrimonio culturale metodista e valdese. La Società di Studi Valdesi, l'Ufficio Beni Culturali e anche l'Atlante Toponomastico per il Piemonte Montano hanno insieme pensato ad un progetto che potesse permettere di far convergere i diversi interessi che questi vari soggetti hanno avuto nel corso delle loro attività, anche decennale, in merito appunto alla toponomastica. Quindi sono state messe insieme varie competenze e ne è nato un progetto nuovo, almeno per noi. E a Galina invece chiedo, oltre a dirlo ovviamente che se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quanto detto da Sara è benvenuta, ma in particolare la seconda parte di questo titolo è dalla raccolta alla restituzione. Quindi ecco, dopo un periodo immagino di raccolta piuttosto lungo, arriva anche il momento di restituire quanto è stato reperito e raccolto alla fruizione pubblica. Sì, è una bella soddisfazione perché come diceva Sara sono diversi anni che lavoriamo a questo progetto quindi vederlo nascere per davvero sugli schermi di tutti e non solo sui database nascosti fa molto piacere. Abbiamo pensato che il modo migliore per presentarlo fosse affiancarlo a una riflessione più generale su questo tema della restituzione del sapere toponomastico alla comunità e per farlo abbiamo organizzato questo convegno che si terrà lunedì nel quale ci sarà una prima parte di inquadramento del ruolo della toponomastica negli studi valdesi e in generale di quello che ci insegna la toponomastica sulle comunità e poi ci sarà nel pomeriggio invece la presentazione di altri tre progetti di toponomastica che dal nostro punto di vista insomma sono stati un po' dei modelli perché rappresentano dei progetti in cui la parte di restituzione è molto curata e molto centrale diciamo in mezzo a queste due parti di convegno si piazza la presentazione di quello che abbiamo fatto noi e quindi del modo in cui vorremmo restituire questo lavoro alle comunità diciamo che vivono il territorio indagato ma anche a tutte le persone che si interessano di toponomastica o di vallivaldesi insomma questo progetto abbraccia come avete sentito i due interessi sia un interesse più storico sia un interesse più linguistico certo ma infatti hai un po' anticipato la mia prossima domanda che era proprio questa una restituzione pensata per chi? cioè solo per studiosi di questo settore oppure no come ci hai già detto e come Sara ci confermerà è una restituzione anche proprio alle comunità esatto il fatto di inserire questo progetto all'interno di un progetto più grande già volto proprio alla restituzione ad una collettività più ampia dei contenuti legati al patrimonio culturale e in questo caso ai nomi di luogo è proprio al centro del progetto perché in questi anni noi abbiamo lavorato dietro le quinte raccogliendo questi dati però per noi il momento appunto della restituzione è fondamentale perché è un po' come dire lo scopo finale va anche detto che noi speriamo davvero che sia così poi il portale e la parte dei toponimi sia consultata da un pubblico veramente variegato chi si interessa del territorio, chi ha una curiosità ma anche chi effettivamente svolge degli studi di tipo linguistico e anzi speriamo oltretutto che i primi dati che noi metteremo online stimoleranno anche un po' diciamo così la partecipazione della comunità perché per esempio molti di questi noi abbiamo solitamente oltre ai dati di tipo descrittivo i luoghi sono descritti anche da delle fotografie allora per esempio su questo aspetto c'è stato un lavoro proprio sul campo le persone che hanno inserito i dati nelle nostre linguiste poi sono anche recate nei vari posti in alcuni casi le foto le dobbiamo ancora fare alcune mancano e sarà bello pensare ad un coinvolgimento anche della comunità che magari invece avrà la possibilità di contribuire a questa banca dati fotografica anche per aumentare le foto che abbiamo perché oltretutto è anche un modo per documentare lo sviluppo del territorio certo, insomma mi sembra di capire che è un progetto che è vero è giunto ad un momento di presentazione quindi è un momento forse anche di chiusura di una parte di lavoro ma non si conclude qui, prosegue e anzi è benvenuta ecco l'integrazione e la collaborazione come avete pensato il convegno che si terrà lunedì tra l'altro segnaliamo che ci sarà un piccolo spostamento di luogo ma in realtà non è che ci si sposta da una parte all'altra di Torino semplicemente insomma da una parte della strada all'altra perché questo appuntamento sarà aiutatemi adesso è col complesso Aldomoro esatto la sala lauree del complesso Aldomoro sempre in via Sant'Ottavio a Torino e come l'avete immaginato non so Aline forse o Sara per quale ma sì un po' come dicevo prima abbiamo pensato a quali altri progetti conoscevamo ci avevano ispirato soprattutto rispetto a questo aspetto della restituzione quindi avremmo l'idea flus del dizionario toponomastico trentino che ci parlerà di come la regione trentino ha sviluppato questo progetto toponomastico avremmo Marina Castiglione che invece è siciliana e hanno fatto questo nuovo dizionario atlante toponomastico di una zona della Sicilia e poi Gian Mario Raimondi dalla Valle d'Aosta dove si sta tenendo invece un progetto di escursionismo e toponomastica diciamo quindi di descrizione di itinerari escursionistici attraverso l'uso della toponomastica e quindi appunto l'idea era di far parlare anche altre esperienze per magari appunto farci venire qualche idea per il futuro anche perché come dicevi tu il progetto nella sua prima parte è concluso ma da un lato abbiamo dovuto fare delle scelte nel senso che non si troveranno tutti i luoghi delle Valli Valdesi evidentemente perché non sarebbe stato fattibile quindi abbiamo scelto di descrivere, di nominare solo i luoghi che compaiono sulle carte dell'Istituto Geografico Militare diciamo già un buon numero di luoghi ma non tutti non tutti i luoghi quindi un possibile ampliamento è questo un altro possibile ampliamento è che noi abbiamo interpretato il concetto di Valli Valdesi in senso stretto quindi per esempio abbiamo considerato solo la sponda destra del Chisone ma appunto volendo sarebbe molto interessante anche implementare con i comuni della sponda sinistra chissà perché no con l'alta Val Chisone quindi insomma c'è margine di movimento ancora c'è margine di implementazione adesso che esiste lo strumento che abbiamo visto che funziona poi vedremo anche cosa ci diranno gli utenti perché poi noi sappiamo che quando metti online qualcosa poi c'è anche il momento in cui tu che conosci molto bene il sistema ti ritrovi ma non è detto che sia così anche per gli utenti quindi sarà anche un po' speriamo che sia un banco di prova e poi appunto una volta che c'è lo strumento le possibilità di ampliamento sono reali quindi speriamo effettivamente che questo progetto possa continuare anche perché negli interessi sia della società di studi valdese che dell'ufficio beni culturali della tavola valdese insomma non sono temi che si concludono cioè sono dei percorsi aperti quindi un progetto che unisce territorio unisce le comunità religiose unisce anche la storia perché poi appunto i toponimi sovente ci ricordano anche cosa è accaduto chi è stato protagonista nella storia e via dicendo ultimissima domanda dove si potrà vedere questa restituzione? allora si potrà consultare sul portale del patrimonio culturale metodista valdese quindi www.patrimonioculturalevaldese.org diciamo che sarà possibile o scoprire i luoghi attraverso una semplice ricerca di base oppure c'è una sezione proprio dedicata dei toponimi facendo una ricerca avanzata si potranno fare delle ricerche specificamente dedicate oppure attraverso una mappa cioè poi le modalità di restituzione sono molteplici noi appunto lunedì presenteremo spiegheremo un po' sia come si è arrivati a questo progetto sia come funziona il portale quindi diciamo che il posto dove potrete consultarlo sarà appunto sul portale del patrimonio culturale valdese metodista bene quindi buona presentazione lunedì grazie a Sara Rivoira Ufficio Beni Culturali e a Lynn Pons Società di Studi Valdesi per essere stata con noi per essere state con noi entrambe e buona continuazione insomma dei vostri rispettivi lavori e in particolare buona giornata di presentazione ufficiale di questo bel progetto che ha visto protagonisti i due enti citati ma anche tanti altri che appunto hanno collaborato per la realizzazione di questo percorso grazie e buon lavoro a presto ciao ad entrambe ciao grazie grazie mille